Ci siamo anche oggi amici come state tutto bene buon mercoledì mercoledì 12 di aprile Siamo ormai quasi a metà aprile ormai è ferragosto ragazzi siete pronti il costume il prova costume cominciate a farla io e Renato abbiamo cominciato a farla siamo non siamo non andiamo bene non andiamo bene dobbiamo andare a camminare mattina pomeriggio e sera se vogliamo essere veramente perfetti con la prova costume non è il momento di parlare di mare perché ancora ci siamo dai c'è tempo vero Renato Guardo in su perché Renato lo so in cima Renato c'è tempo vero te poi sei un bagnarolo che ha paura dell'acqua ragazzi se incontrate Renato gli hai tirato un secchio d'acqua lui lui comincia a urlare perché è al terrore dell'acqua Allora comunque noi siamo qua per portarvi la musica che Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini ci hanno regalato nella terza puntata di Emozione e Tradizione puntata dedicata alla tradizione Ivan Novaga Io vi ricordo che questa sera con l'Emilia Romagna Venna visto che parliamo di tradizione siamo a Maranello io Paolo Rinaldini, Pier Martinetti, Gabriele Zaccherini, Marco Tagliavini e Daniele Donadelli Serata interamente dedicata alla tradizione emiliana romagnola mi raccomando se avete voglia di passare un paio d'ore con noi venite a ballare all'Arci di Maranello ma adesso è il momento di musica è il momento di Angelo Mio Tradizione Ivan Novaga Siete pronti? Guardate lentamente lo faccio faccio arrabbiare Renato Paffete! 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 Grazie a tutti. 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 E questo era Angelo Mio, la tradizione Ivan Novaga. Corriamo un pochettino perché sono stato un po' lungo nella prima parte. Andiamo ad ascoltarci un altro bellissimo brano. Qui sempre la tradizione Ivan Novaga. Arriva questo preludio d'amore. Ci sei, Renato? Clicco? Sicuro? Voi sicuri? E vai! 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 Renato, mi hai fatto sbagliare il titolo del brano? È primo preludio, non è preludio d'amore. È primo preludio, no ho sbagliato io, non ho sbagliato Renato. È perché ho in mente questo preludio d'amore che mi sembra che sia un brano di Fiorenzo Tassinari. Comunque questo era primo preludio della tradizione Eman Novaga. Vi ricordo il numero, lo vedete qua sotto per votare il vostro brano preferito. Mi raccomando perché venerdì cambieremo artista perché vi porteremo all'ascolto di alcuni dei grandi successi di Ferre Rossi con Mirko Gramellini, Roberto Ruffilli, detto il bomber. Allora noi ci vediamo domani, stessa ora per le pillole dedicate a emozioni e tradizioni. Da parte mia, da parte dei video di produzione Maltoni, Teleromagna, Pubblici Solale, Orogel. Buona serata, un abbraccio e se questa sera volete sgambettare, lo sapete, l'Emilia Romagna Band arriva, ma soprattutto ritorna all'Arci di Marranello, provincia di Modena. A domani. Lentamente sul cuore Non mi guardi ed io mi sento più fragile Ma dentro agli occhi tuoi vorrei lasciarmi cadere Per sentirti mia Accarezzando l'anima E strapparti a chiunque per portarti via Tu Tu Stella inarrivabile Nei tuoi sguardi il mistero Nel vuoto mi lasci cadere Tu Sogno inconfessabile Con i tuoi occhi mi accendi Così Così fino a farmi morire Notti senza Dio In questa mia stanza Maledetto io Che non so più vivere Se solo fossi qui Se solo fossi qui sarebbe tutto più facile E tra le braccia tue potrei soltanto impazzire Se tu fossi mia il cielo ridipingerei Io farei Io farei di tutto per portarti via Tu Stella inarrivabile Nei tuoi sguardi il mistero Nel vuoto mi lasci cadere Tu Sogno inconfessabile Sogno inconfessabile Tu Sogno inconfessabile Con i tuoi occhi mi accendi Così fino a farmi morire Così fino a farmi morire Così fino a farmi morire